Abbiamo notato che comunque la società albanese non è una società omofoba, questo è molto importante. Riguardo alle dichiarazioni invece del rappresentante delle istituzioni, penso che gli albanesi debbano riflettere su questi personaggi che comunque sia non usano dei termini giusti per condannare determinate richieste. Oggi l'Albania è un paese in crescita, è un paese che guarda all'Europa e questa figura istituzionale non ha fatto una bella figura soprattutto per il suo paese, per quello che rappresenta. Siamo contenti delle distanze che il Presidente Beriscia ha preso definendo non giusto né corretto e soprattutto che non è il pensiero del governo. Il primo ministro, quindi ecco il primo ministro, quindi questo è molto importante. Altra cosa per quanto invece riguardano le autorità ecclesiastiche religiose sul territorio albanese. A mio avviso le religioni hanno un dovere, quello di favorire l'incontro, il dialogo, ma non istigare invece all'odio.